Ciao amici, la cosa che ho detto oggi è? Oggi vi volevamo fare vedere la barca delle piniponi che è stata regalata ad Arianna per Natale dovete sapere che è stato un po' difficile trovarla perché adesso ce l'abbiamo anche a scuola però con felle hanno perso tutti i testi si ma è difficile trovare questo modello nello specifico perché non la fanno più adesso fanno un modello diverso cambiano i colori, un po' la forma è sempre lo stesso gioco però a colori diversi anche il motoscafo ha una forma diversa si perché ce l'avevamo a scuola e da questo punto prendendo che quelli che c'erano prima nella classe hanno perso tutto quindi noi siamo state io e Maria abbiamo trovato alle rotelle sotto io e Maria abbiamo trovato che c'era soltanto una cosa non c'erano tutte le cose che c'erano dentro ma abbiamo trovato proprio un bel niente dopo un po' che abbiamo preso il coso che si metteva in testa l'abbiamo perso subito dopo un po' di anni insomma praticamente questo giochino qua ce l'hanno nella scuola di Arianna la scuola materna dove va Arianna che evidentemente qualche genitore ha donato però hanno perso tutti gli accessori infatti quando è arrivata all'aperta per Natale abbiamo scoperto che ha un sacco di cose questa barca allora innanzitutto questo è un motoscafo si stacca si perché comunque non riesce a parlare la sua bandiera poi aprendolo scusate c'è un pesciolino poi aprendolo ha tante cosine allora qui c'è il letto che si apre e chiude questo entra ed esce quindi qua ci sono questi che si possono toccare c'è una cosa segreta per qua c'è il cassetto trasparente che qui non c'è proprio niente anzi hanno staccato franne questa e questa e anche questa e anche questa hanno toccato tutto e hanno anche scarabocchiato qui vedete questo qua il timone gira questo qua dove c'è la mappa la mappa questa gira mi fa vedere i pesciolini anche tira via la manina voglio prenderlo qua si facciamo vedere anche questo qua vai su va si alza e si abbassa la cloche e poi questo è un pezzo delle pinipon si la mollettina è una mollettina guardate qui dentro c'è un cassetto segreto si che con cui le pinipon contengono tutti i loro segreti tipo all'inizio li fanno soltanto alle loro amiche ma al suo fidanzato no perché dopo li rubano poi cosa c'è poi li facciamo vedere qui adesso dopo dopo adesso qua c'è invece il cassetto il segreto delle pinipon perché ci mettono un secchiello c'è il secchiello c'è la bombola dello sito c'è la scaletta per salire la scaletta per salire abbiamo detto che c'è il pesciolino guardate ragazzi e poi c'è sotto un altro un altro nascondiglio tipo puoi nasconderci tutto e c'è di tutto e c'è di tutto e c'è di tutto e c'è di questa che è un po' rottina perché dobbiamo eh devo ricucirla c'è la maschera soprattutto c'è rotta delle pinipon perché sento tanto da tanti anni che non ce l'avevo se la vissi poi c'è ritieni su qua per piacere c'è l'ancora che andrebbe attaccata qui qui ma evidentemente è stata rotta si poi c'è abbiamo detto la mascherina la mascherina poi c'è questo e poi adesso i pattinetti per andare giù guardate gli sci per fare lo sci d'acqua con il motoscafo lo sci d'acqua con il motoscafo poi vi facciamo vedere dove si attacca questo lo scivolo rispettate lo scivolo il barbecue lo barbecue non ha niente di strano però si può attaccare guardate qui queste pelline non sono normali indovinate che cos'è il carbone il carbone per fare le cose per fare il barbecue infatti questo dopo andrebbe messo qui sopra è la griglia che ti farei brava ci sono i granchi cosa c'era dentro ancora due pesci poi c'è questo che sarebbe tipo il vassoio qua ci sono altre cose con le quali c'è il granchio qua c'è quello per fare lo sci d'acqua si con il granchio maniglia qui c'è un'altra bombola una bottiglia d'acqua e un pesciolino un granchietto e due pesciolini in totale le pinne dove è andata l'altra pinna? eh no ci manca una pinna Arianna mi ha preso una pinna? una pinna un cilio d'occhiali no ecco c'è l'altra pinna poi c'è un bicchiere si per la bottiglia e la bottiglia e vabbè ora dicevamo la bottiglia ha un bicchiere quindi non dovete indicarmi se ha un bicchiere lo scivolo il bicchiere è questo esatto se avete una sorella o un fratello mi assicuro una sorella e una sorella lo scivolo si aggancia qua a non litigarci perché è soltanto uno e qua c'è il trampolino che si aggancia qua ci sono i i buchini è soltanto uno questo dai ma non le ho fatto vedere questo ecco la bottiglia aspetta devi tirare un po' ben dietro e non so si vede insomma ecco questa è la bottiglia e questa è il bicchiere aspetta ok un po' più lontana Ari perché se no non riesce a farlo vedere ecco qua poi dopo una mia collega ha gentilmente regalato ad Arianna le pinibom le pinibom le più adoro che sono queste quelle che adoro e invece la nonna di Arianna è un marito la maschietta le abbiamo fidanzato tipo con lei esatto e abbiamo fatto che lui è il fidanzato di lei così si chiamano le soffi entrambi le abbiamo scelte bene amici noi adesso vi salutiamo facciamo un altro video pronto con voi ecco adesso noi mettiamo a posto un po' questa cosa assolutamente sì perché non possiamo fare un altro video senza quelle eh già amici noi vi salutiamo vi diamo appuntamento al prossimo video cliccate qui sotto la campanella se volete vedere altri video iscrivetevi al canale esatto e mettete un pollicione nel video e cliccate la campanellina per non perdermi tutti gli altri video ciao amici